Con noi l'ex assessore alla pianificazione strategica della giunta Campisi, Andrea Milazzo. Perché questa intervista adesso? Perché l'ex assessore Milazzo vuole spiegare una cosa molto importante che la città deve conoscere. In pratica la giunta Campisi aveva ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro, di cui 1 milione e 600 mila euro finanziato dalla regione siciliana con fondi comunitari. Questi soldi servivano per la rete pubblica di illuminazione multifunzionale telecontrollata palo per palo, che avrebbe fatto risparmiare al comune di Caltanissetta 200 mila euro l'anno di bolletta. Questi soldi sono arrivati fine aprile 2014. A giugno 2014 le nuove elezioni, quindi la giunta Ruvolo, doveva essere bandita la gara d'appalto, gara d'appalto che non è stata più bandita. Quindi questi soldi, questi 2 milioni di euro, che fine hanno fatto? Per la verità nella parte emotiva del decreto, il motivo dell'arrevoca del finanziamento è nell'inceppamento delle procedure burocratiche che non hanno saputo superare una criticità, che peraltro è abbastanza frequente, di un ricorso da parte di una ditta, che nel caso di spesa di fondi comunitari esigeva che si facesse un affidamento provvisorio per permettere proprio la spesa di queste somme. Purtroppo chi amministra deve anche prendersi dei rischi. Sembra che, almeno nel corpo del decreto di revoca, vi sia stata la richiesta di un parere all'ANAC, che è notoriamente abbastanza lunga nel concedere questi pareri, e queste procedure si siano fermate. E' conseguenza del quale la Regione ha provveduto alla revoca del decreto. Questo purtroppo fa perdere una grande occasione, non solo di risparmio nella bolletta elettrica, perché questo servizio di telecontrollo dell'illuminazione, che permetteva per ogni palo proprio il controllo della luminosità, dell'intensità luminosa e dei tempi di accensione, andava a integrare questi pali della luce come dei veri punti di servizio multifunzionale, dove potevano essere applicate le telecamere, dei sistemi di ricarica per gli autoveicoli, un sistema wifi, un sistema di telesoccorso per i cittadini. Quindi andava a implementare un vero sistema che rendeva a Caltanissetta una smart city, unitamente poi agli impianti per il controllo delle polveri sottili, finanziamento anche questo revocato precedentemente per 200 mila euro, e anche al finanziamento proprio per l'energia sostenibile, anche questo revocato per 50 mila euro, e al regolamento sull'architettura sostenibile ritirato dall'aggiunta al rubolo qualche mese fa senza nessun vero motivo, purtroppo tutto questo sistema di mancati provvedimenti o di provvedimenti di ritiro stanno sostanzialmente facendo tornare indietro questa città a un livello di 20 anni or sono, cioè a fronte di una programmazione che si era attivata proprio per garantire alcuni dei punti che poi sono nel programma di questa amministrazione. Dico io spero, mi aspetto che l'amministrazione attivi le procedure legali per ricorrere contro questo decreto laddove ce ne siano le condizioni e provi a rientrare in possesso di questo finanziamento perché chiaramente questi soldi verranno spesi in altre realtà che purtroppo hanno avuto la capacità di essere più virtuose di noi.